Passati i funerali del piccolo Tommaso che hanno stretto la città in un abbraccio collettivo, si torna a parlare dell'inchiesta. Il dato è che il ragazzino di 12 anni che era a bordo della Passat, che si è sfrenata, sarà ascoltato in un ambiente protetto, chiaramente alla presenza di uno psicologo, per capire se confermerà la versione della mamma, disperata anche lei, che ha raccontato durante l'interrogatorio che il figlio le avrebbe confidato di aver tolto inavvertitamente la marcia. L'inchiesta è del sostituto procuratore Stefano Gallo, coordina lui le indagini, portate avanti dalla squadra mobile guidata dal dottor Danilo Di Laura. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda. A chiarire ogni dubbio sarà certamente la perizia tecnica del geometra Cristiano Ruggeri, che ha chiesto 90 giorni per mettere tutto nero su bianco. Sarà fatta l'analisi della centralina della macchina, che permetterà di capire cosa sia realmente accaduto quel giorno e perché la macchina si sia sfrenata, travolgendo il cortile dove giocavano i bambini e provocando la morte di Tommaso e Ferendo altri compagni. Ma non è l'unico filone di inchiesta. Gli inquirenti stanno indagando sui protocolli di sicurezza e l'inchiesta a questo punto potrebbe anche allargarsi con altri indagati. Quel cortile senza segnaletica poteva essere usato e aperto. Ci sono delle norme che regolavano ingresso e sosta delle auto, sono state applicate. Tutte domande alle quali si dovrà dare necessariamente una risposta. Il dito è puntato insomma anche su quel parcheggio e soprattutto sulla cancellata che delimitava il parco giochi, che è stata travolta dall'auto nella sua folle corsa e che non ha protetto i bambini. Si stanno scandagliando quindi i piani di sicurezza per valutare questi aspetti che non sono assolutamente di poco conto. Da più parti infatti si levano voci in questo senso. La situazione di molti parcheggi scolastici cittadini a prima vista non sarebbe sicura e i genitori, anche alla luce di questa emane tragedia, chiedono invece controlli, chiedono più sicurezza, perché le scuole, al di là dell'incidente in sé, devono essere luoghi sacri, sicuri. Intanto, sino a domani le attività didattiche del nido e della scuola a primo maggio sono sospese per consentire il completamento del trasloco, una decisione che il Comune ha preso nei giorni scorsi dopo la tragedia per permettere ai piccoli alunni di riprendere, per quanto sia possibile, un minimo di normalità e serenità ricollocando le scuole in altre sedi.